La partita è finita con il risultato di Roma 5, Longobarda 1. Mister, abbiamo fatto cittina, eh? Vado anche, farò spiritoso, eh? Guarda che io so tutto di te, vita è miracolo, di notte e di giorno. Mi ha fatto all'ossire, mister. E' disgraziato. Mister, questi cinque due li diamo un po' di magrite, eh? Eh, non ti preoccupare che fra una decina d'anni ti vedo anche a te al posto mio. Già i capelli li stai perdendo. E' così, mister. Ciao. Già, 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 gi Grazie a tutti.